La comunità dei discepoli avrebbe potuto dire a Tommaso, ma tu dove eri? Ti sei perso qualcosa di importante? Invece no, la comunità ha fissato un appuntamento, ha detto a Tommaso, rimani qui, fra otto giorni il Signore sarà qui. Ecco, in questa scadenza, in questo ritmo degli otto giorni, vediamo e rivediamo questa scadenza settimanale nella quale noi come comunità ci riuniamo ogni domenica e nella quale il Signore solo dal nostro essere riuniti si fa presente. Il Cristo può risorgere e risorgerà sempre solo quando ci sarà una comunità di persone, di credenti che credono in Lui e che si riuniscono nel suo nome. E allora, cari fratelli e sorelle, ecco, davvero, in questo momento che siamo separati, siamo ancora più uniti. Il Signore ci raggiunge nelle nostre case, ci raggiunge attraverso questa chiusura, ma ci attende e ci dà appuntamento fra otto giorni. Ecco, non sappiamo in che modo questi otto giorni si potranno rivelare. Certamente otto giorni non sono otto giorni a livello numerico, ma idealmente questi otto giorni saranno quei giorni in cui davvero noi come comunità ci ritroveremo per toccare con mano la misericordia del Signore.